Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 La musica è la vita! Questo è il voce della notte, Radio Radio By Night Roma, 104 e 5 FM, let's begin, let's begin! La musica è la vita! Continuiamo il discorso del matrimonio, il matrimonio, come prima aveva detto Mr. Briglione, la messa è finita, andate in pace Ma in pace de che? Non esiste la pace, immaginate la scena, la moglie che vi aspetta a casa, voi entrate dopo una giornata di lavoro E fate, ah adesso mi rilasso sul divano perché sono stanco, e arriva lei Tu sei stanco? Io oggi ho fatto tre lavatrici Che mica ha costruito? Ma come è iniziato tutto? Prima del matrimonio, prima del sì, come è iniziato tutto? Tanti anni fa, quando ancora eravate solo fidanzati, lei faceva Caro, quanto è che ti amo? Da quanto tempo siamo insieme? Fai qualcosa per me? Perché, naturalmente, è soltanto la donna che fa cose per l'uomo L'uomo è pupazzo E cosa vuoi? Cosa vuoi che faccio? Parla con mio padre Il matrimonio si stava avvicinando E così tu vai e parli con il padre E gli fai papà Papà A papà Che? Io vorrei Vorrei dirle, vorrei sposare sua figlia Capitano queste cose Sono momenti brutti per tutti Non c'è No, no, ma che ha capito? Io voglio proprio la mano di sua figlia Costi quel che costi Ma non ti preoccupa Non ti costa niente Te faccio pagare niente Anzi, faccio offerta Devi pure la madre Te piace? E tu scendevi Dicevi Tuo padre è un signore Un signore veramente Proprio è stato come il pane In realtà il padre è un furbo Perché dice Se ne va a lei di casa Ma affitto per i rumeni 500 euro Boni E poi Arriva il momento Un po' più Difficile Quando tu L'uomo Parli con il tuo padre E vai lì e fai Papà Te dovrei parlare No, no, non lo ritengo necessario Non Non penso sia No, fidete pa C'è un cambiamento di vita No, voglio cambiare Mi piace così Senti pa Ma io Me devo sposare Aguri Aguri Sono contento Tanti Aguri No, ma dai Mi servirebbero i sordi Ecco Io non ti volevo parlare Lo sapevo Non ti volevo parlare Che dovresti fare Dimmi forse Beh, allora ci sarebbero Le foto Ci sarebbero Il pranzo E tutti I filmini Ma perché? Ma che te serve Nei filmini? Beh, per ricordo Ma perché pensi E ti ascolti? Una giornata del genere Pensi che ti ascolti? E quanto ti servirebbe? Fammi capire Beh, ho fatto un conto Diciamo sui 250 milioni Vabbè Ti do Che? 250 milioni a te Pure a tuo fratello però Mi pare giusto 500 milioni Ti do Tranquillo Senti pa Ma Con sta faccia Mi dà come l'aria Che mi sappia un po' per culo E ma ha cominciato te Ma che davvero Bah E niente Poi Arriva il momento Che Che uno Tocca che si sposa Quando è arrivato Il momento del matrimonio Del sì Inizia la vita coniugale La vita coniugale Che Sembra Una cosa semplice Ma in realtà non lo è Ma questa la racconto un'altra volta Sempre su Radio Radio By Night Roma Valerio Massari Maurizio Battista Il suo monologo Grande Maurizio Che salutiamo Grande Valerio Grazie Stava ringraziando Grande Vale Grazie Grazie a voi Radio By Night Roma 104 4 3 5 Grazie a tutti.